La vita umana è sagra perché fin dal suo inizio comporta l'azione creatrice di Dio e rimane per sempre in una relazione speciale con il creatore, suo unico fine. Solo Dio è il Signore della vita dal suo inizio alla sua fine. Nessuno in nessuna circostanza può riventicare a sé il diritto di distruggere direttamente un essere umano innocente. Abbiamo avuto anni e anni fa una scena poco simpatica, anzi molto negativa, in un ospedale di Vienna delle infermiere che per non avere il peso di alcuni ammalati un po' difettosi cercarono con mezzi illeciti di eliminarli e portarli alla morte. Nessuno ha il diritto di sopprimere una vita. La Bibbia ci presenta Dio autore della vita. Non provocate la morte con gli esori della vostra vita perché Dio non ha creato, non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Il quinto comandamento proibisce la cultura della morte e si esprime nei crimini dilettuose nel rigetto dell'amore. Il padre dell'omicida è il diavolo. A tutto ciò che è contro la vita, come l'omicidio, l'aborto e l'eutonesia, il cristiano contrappone la testimonianza dell'amore e il rispetto della persona. La vita è un tono da curare e difendere. Possiamo fare anche una preghiera al riguardo «O Signore fammi comprendere che custodire la vita propria e quella degli altri significa dare cure amorevoli a quante ci circondano, come genitori, anziani, parenti, nemici, anche se tal impegno richiede fortezza, temperanza e donazione. Chiunque odia il proprio fratello è omicida. Voi sapete che nessun omicida possiede in sé la vita eterna. Signore fa che io mi adopere a rispingere la violenza sui bambini, il mattrattamento dei minori, la violenza sessuale, la pornografia, la prostituzione, i comportamenti che facilitano la diffusione dell'AIDS, l'uso e lo spaccio della droga, la carenza di adeguate sistemi di sicurezza nei posti di lavoro, l'inquinamento dell'ambiente». San Francesco, l'uomo che era proteso alla perfezione e alla salvaguarda dell'universo, riceve il don del corpo come partecipazione all'incarnazione dei figli di Dio e viene destinata alla beatitudine eterna. Non può accettare violenza alcune neppure sulle altre forme di vita sulle piante, sugli animali e sulla creazione in genere. Sappiamo bene dalla storia come Francesco amava tutte le creature, a cominciare dal vermiciatolo che incontrava sulla strada agli uccelli dell'aria, tutte erano creature da lui amato. Su questa scia troviamo anche Padre Pio che prega per tutti, si immola per tutti, diventa vittima per i fratelli, ma nello stesso tempo fa la carezza al cane, cane che era abbastanza preoccupante avvicinarsi e Padre Pio lo avvicinava e faceva festa a quel cane. Quella bestiolina aveva capito che Padre Pio gli voleva bene, lo amava.